Konnichiwa a tutti ragazzi e ragazze ben ritrovati in un nuovo episodio di into the 4k oggi parliamo vabbè ragazzi io l'ho visto al cinema nel 96 questo con la mia mamma io ricordo ancora quanto mi sparavo il trailer nella videocassetta di Chuck con i film di prossima uscita e quando sono andato al cinema è stata una goduria poi ho visto il 2 ho visto il 3 al cinema ho visto anche no il 4 no l'avevo visto in blu ray poi ho visto il 5 al cinema e il 6 me lo son perso e il 7 data di registrazione di questo video non ho un momento per andarmelo a vedere al cinema non ce l'ho un momento che anche dolby atmos in italiano e che su disco andrà perso come scorreggia nel vento ma mission impossible 1 saga cominciata da brian de palma la regia poi nel 2 c'è stato john boo nel 3 c'è stato jj abrams eccetera eccetera io dico che i primi film con ton cruise il primo è un thriller alla de palma cioè figo così il secondo è un film d'azione alla john boo cioè john boo il terzo sembra una puntata di alias perché JJ Abrams nel 4 ha un altro aspetto dal 5-6 e presumo anche il 7 da quello che mi hanno detto con lo stesso regista perché dal 5-6 e 7 allo stesso regista inizia a essere un po' più o meno sempre lo stesso stile sempre la stessa cosa ripeto mi manca il 7 ma penso proprio che non mi sbaglierò quindi il primo vedere un thriller di The Palma costruito alla The Palma abbinato al mondo di Mission Impossible come mi è piaciuto i tempi al cinema preso in VHS, preso in DVD, preso in Blu-ray e adesso preso in 4K e la scena finale lo so oggi Tom Cruise fa di quelle scene spettacolari CGI esagerate però io quella scena finale dell'elicottero dentro il tunnel del treno cioè luce rossa, luce verde è pura epicità e mi sono gasato a rivedere questo film però mi sono anche gasato per il video quindi video ragazzi Master 4K che era già stato fatto un paio di anni fa il Master 4K poiché da noi era uscito in 1080p in varie edizioni diverse cioè varie cover diverse hanno fatto qualche ristampa e anche qui all'interno c'è sempre lo stesso 1080p vecchio che all'estero era uscito in America in MPEG 2 da noi e in AVC comunque è lo stesso Master ma come dicevo prima un paio di anni fa era uscito in America, UK, Germania e se ricordo bene Francia una nuova edizione remastered 1080p dal Master 4K noi ragazzi qui dentro abbiamo il vecchio disco 1080p e dopo aver visto il film in 4K ho messo il 1080p è una porcata quel Master cioè come facevamo a vederlo così in 1080p? è una... mamma che merdata di video morbido DNR graffi e puntini di pellicola lungo tutto il film cioè scegliete una scena a caso ed è brutta cioè è proprio un Master de merda quello del 1080p all'estero senza italiano era uscita quella da Master 4K sempre stessi extra, sempre stessa roba della vecchia special edition che da noi era uscita in doppio disco still book mi sembra e tutti extra in SDR carini, carini ma ci arriviamo dopo brevemente agli extra e il video ragazzi granuloso pellicola 35 mm più morbida nelle fasi di transazione analogica da una scena all'altra fade out, fade in dove ci sono delle scritte lì è più morbida dove ci sono degli effetti in CGI come tutta la parte finale del treno per quanto non sia il 1080p col vecchio Master ripulito, più bello ovviamente ma non ha quella nitidezza quel micro dettaglio che ha il resto delle scene del film per esempio Tom Cruise è sul treno attaccato CGI, elicottero, alberi che passano eccetera e quella scena regge ancora oggi ragazzi cioè regge ancora oggi come effetti visivi è meravigliosa secondo me però quando Tom cerca di aggrapparsi c'è un close up su lui che cerca di prendere la maniglia che si aggrappa insomma robe dove non ci sono la CGI in mezzo a quella scena del treno vedete che la qualità che cambia così cioè dettagliato micro dettaglio ok più morbido però granetta lungo tutto il film in certe scene aumenta di più come la scena iniziale dell'interrogatorio lì un po' più scura l'immagine la granetta aumenta di più però all'interno di quella granetta c'è un micro dettaglio in tantissime inquadrature in tantissime scene che proprio ho detto cioè cazzo cioè io manco al cinema l'ho visto così bene manco al cinema ma quando entra nella stanza segreta dove si mette si mette così che infila il cacciavitino che entra e svita la vite paura o quando si siede al ristorante prima di che io sono andato a Praga mi sono completamente dimenticato che lì hanno girato l'inizio di Mission Impossible potevo farmi due tre foto di dove era il ristorante finto l'hanno costruito per la scena oppure dove sono andati al ballo cioè l'inizio del film potevo farmi un piccolo tour sono andato a Praga manco ci ho pensato è cretino proprio comunque quando è lì seduto sul tavolo nel micro dettaglio del bicchiere della tovaglia della camicetta di Tom Cruise sporca c'è ragazzi in tantissime scene meraviglioso c'è la granetta davanti fina c'è aumento in certe scene certe inquadrature anche senza effetti speciali sono un po' più morbide il micro dettaglio fa un po' più fatica a spuntare fuori però HDR10 Dolby Vision ragazzi per me è stata una goduria per il 90% del film ci sono quelle scene un po' così però è così è così il materiale di partenza è così però ragazzi davvero tanta roba Mission Impossible in 4k bello 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 e i colori sono meravigliosi quell'azzurro dell'acquario dentro il ristorante il tunnel dove c'è Jean Reno che vede il topo c'è la luce che arriva di qua blu astra ma anche quella scena morbida del treno l'esplosione cioè rosso vivo del fuoco sono colori meravigliosi tantissime sfumature da un colore all'altro bello bellissimo tutti quei riflessi a Praga che appena ha piovuto alte luci non eccessive però un'immagine bella brillante e anche i colori all'inizio del film durante l'interrogatorio quando aprono il set wow cioè godune belli ragazzi mi è piaciuto tantissimo rivedere Mission Impossible 1 e corre meno qua in questo film Tom Cruise non aveva ancora imparato a correre più veloce e per più tempo ma quello inizierà dal 3 si dal 3 che si fa la mega corsa verso la fine del film spettacolo in 4k ragazzi spettacolo passiamo all'audio audio ragazzi dai tempi del DVD è sempre rimasto in Dolby Digital 5.1 è sempre la stessa traccia in 5.1 ma vi dirò qualcosa nel 4k l'inglese in Dolby True HD 5.1 nel Blu-ray e DTS HD Master Audio 5.1 differenze tra le due tracce inglesi ragazzi io ho ascoltato esplosioni la scena del treno io non ho sentito differenze due codec diversi ma non ho sentito differenze il subwoofer non spinge tantissimo come frequenze basse ci si diverte dà aiuto alla colonna sonora anche orchestrale quella del treno cioè figata paura però differenze dalla Dolby Digital ovviamente ci sono la traccia inglese è più pulita più pulita più calma di volume più giusta tutta di volume su round non ce n'è tantissimo la scena del treno vabbè passa il treno così non c'è tantissimo su round però la cosa più bella è la musica incalzante cosa dire io ho sentito il film per un 80% poi ho rivisto anche altre scene ovviamente in inglese in italiano uno a me piace il doppiatore di Tom Cruise mi piace un sacco sapete che io ascolto sempre in inglese per sentire la migliore qualità della traccia sonora perché mi piace così sin dai tempi del DVD faccio sempre così però l'italiano è più sporcarello però è più alto di volume ha un bel centrale cioè è un Dolby Digital leggermente power up la musica ripeto è un po' più calda sporcarella come traccia non è bella pulita nitida però l'ho sentito in italiano quindi se volete vederlo in italiano vi divertirete lo stesso lo dico poche volte quindi approfittate di guardarlo in italiano perché lo dico poche volte in inglese è un po' più pulita più giusto come livelli e tutto in italiano un po' più sporchetta però sporchetta buona ma ascoltatelo come volete passiamo brevemente agli extra gli extra sono tutti gli extra che vi ho detto prima già presenti nel Blu-ray vecchio presenti nell'edizione DVD doppio disco sono sempre presi da lì gli extra vari dietro le quinte due filmati di due premi MTV e un altro che hanno dato a Tom Cruise il premio Stanley Kubrick cioè il filmato con tutto un collage dei film che ha fatto in quel periodo Tom Cruise prima di dargli il premio poi c'è un tour al museo dello spionaggio in America tutta roba in SD che però io avevo già visto sul Blu-ray non mi sono rimesso a riguardarla solo per dare un'occhiata così però ho rivisto quello del museo è carino quello del museo insomma niente niente di che cioè niente di che se non li avete mai visti giustamente stateci dietro perché c'è un'oretta di extra però qualcosa di nuovo potevano farlo sì ma vabbè chiudiamo la recensione ragazzi Mission Impossible 1 per me è ancora oggi un cazzo di filmone e Mission Impossible il film d'azione ma spionaggio intrighi poi alla De Palma inquadratura alla De Palma close up cioè e De Palma e si respira dall'inizio alla fine quando Boyd parla a Tom Cruise che gli dice sì l'altro mi ha preso mi hanno sparato e Tom Cruise capisce tutto e vedi quello che pensa Tom Cruise mentre l'altro gli spiega cioè tanta roba maestro del cinema cioè tanta roba bellissimo Mission Impossible 1 nella sequenza finale cioè oggi esagerano con le sequenze c'è Tom Cruise che salta e corre e distrugge per un quarto d'ora di film ma la scena finale dura sette minuti neanche sette minutini più o meno neanche ma è giusta così cioè è perfetta per il film è perfetta ed è bellissima cioè wow ci rivediamo in un prossimo episodio di Into the 4K compratevi Mission Impossible in 4K Sayonara a tutti e bye bye